Matteo Ghezzi, tu sei il segretario della Carvico, oggi che gara hai fatto? Oggi ho fatto la 15 km, gara bellissima, percorso bellissimo, ringrazio Luca per il percorso che è stato veramente splendido. Vi aspettiamo tutti ai nostri di eventi che saranno quelli del 14 gennaio e del 25 di marzo del 2018 naturalmente. E basta, così volete sapere, bella, bella, bella. Adesso sentiamo anche Claudia, tu sei la moglie di Matteo e tu che prova il percorso? Anche io ho fatto la 15, sempre un bellissimo percorso, sempre ringrazio i volontari che sono presenti sul percorso, che ti fanno anche il tifo, che insomma ti sostengono comunque. Il percorso è sempre bello, sempre bello essere qui a Strozza, sempre bella festa. Un voto alla gara? Da 1 a 10? 10, sempre bello. Grazie, grazie Claudia. Ciao.